Nessuno in vista. Qual è il tuo piano, amico? Primo! Ci arrampichiamo sul muro. Ci lasciamo scivolare giù per il camino. E mangiamo tutti i popcorn che ci hanno preparato. Ci hanno beccati! Si sa che chi può! Volete partecipare alla festa più esclusiva di Bikini Bottom? Non vedo l'ora! SpongeBob Live Party è quel che fa per voi. Forse ho un'idea! Potremmo usare questa pone da ormeggio! Non servono assulti stratagemmi. Che splendida notizia! La spugna più irresistibile del mondo torna al cinema solo per due giorni. Con l'anteprima esclusiva di nuovissime avventure e tanti irresistibili momenti di festa. Oh, fantastico! Potrai giocare con tutti gli amici di SpongeBob, indovinare i loro segreti e tuffarti nella festa più bella dell'anno per divertirti come non mai. Che bello quando ci andiamo! Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. SpongeBob Live Party solo al cinema. Sono pronto! Ubisoft! Grazie.